ciao a tutti benvenuti alla diretta di questa sera purtroppo non abbiamo la diretta facebook c'è stato qualche piccolo problemino però dai facciamo la diretta qui su facebook anziché su youtube che abbiamo avuto qualche problema e quindi la faremo la prossima volta mi dispiace per quelli che ci seguono su youtube vediamo se arriva qualcuno ok aspettiamo due minuti che arrivi qualcuno l'argomento allora di questa sera ecco base ai gain o alle perdite durante il trading tra dei ciao dario alberto ciao a tutti sotto qualche piccolo problemino evidentemente l'amministratore oggi abbandonato non abbiamo trovato il link quindi abbiamo solo la diretta facebook va bene chi ha facebook mi dispiace per quelli che ci seguivano su youtube e quindi cercheremo di sistemare per la prossima volta ciao a tutti ciao a mirko ciao giancarlo luca dario leonardo margherita irene renzo nicola va bene se mi dimentico qualcuno portate pazienza a tutti ciao a tutti dai ciao paolo allora tra poco partiamo con l'argomento di oggi mi raccomando cercate di fare share di questa diretta e quindi cercate di condividere più possibile allora abbiamo visto ciao patty ciao ciao com'è il tempo la patty è un bel tempo che abbiamo sempre caldo qui un bel cielo ciao emanuele c'è uno più ciao a tutti quanti allora abbiamo visto l'sp che sta salendo prima di tornare sull'argomento di oggi finché aspettiamo qualcuno ho visto l'sp avevo fatto le analisi sabato che era a 3140 3150 per cui per chi ha seguito la newsletter di sabato ha visto che l'sp era avevo dato di da dei livelli abbastanza interessanti quindi ciao premio ciao andrea e per cui avevo dato dei livelli molto interessanti addirittura avevo detto che molto probabilmente stabilizzandosi stabilizzandosi sopra i 3.220 i 3.100 è stato veramente un bel livello di sp abbiamo visto che sopra i 3.220 che i massimi che hanno fatto i giorni i mesi scorsi siccome un mese e mezzo fa quel livello lì se domani dovesse aprire sopra quei livelli lì è chiaro che per l'sp si potrebbe prospettare ancora abbiamo visto i 3.318 e i 3.350 mi avevo dato quel livello lì già la scorsa settimana che molto probabilmente potrebbe andare su mare qualcuno pensa il mercato possa sentire ancora che ci saranno parecchi ribassisti poi vista la situazione economica però i livelli dovrebbero essere quelli perché chi ha studiato a livello volumetrico sa che dovremmo arrivare all'incirca su quei valori lì molto caldo anche da te patty allora per quanto riguarda l'argomento di oggi dopo mi sposterò un attimino di qui quindi farò una piccola passeggiata perché mi muovo velocemente quindi mi sposto un attimo questa zona allora quindi facciamo una passeggiata come l'altra volta e mi raccomando cercate di seguire top borsa opzioni la diretta di mercoledì e quindi ritornando all'argomento di oggi dopo se avete qualche domanda specifica nell'argomento di oggi andremo anche a nel dettaglio quindi cercherò di rispondere alle vostre domande allora stefano mi dice la borsa americana specie sull'astra diventando peggio di uno schema punzi sale del 10 dal mese sì sì sale sempre e devo spingere fin cantieri eh sì fin cantieri le ho a 0,60 poco poco sopra 0,60 quindi al momento le tengo un po' avete visto banca sistema che ho detto banca sistema che da 1,36 1,40 arrivata oggi era quasi 1,70 se non so cosa era leonardo che era sese la scorsa settimana che è un titolo che io allora tutte le dirette sono a livello didattico e non per incentivazione all'investimento quindi mi dissocio se qualcuno vuole prendere qualcosa lo fa sul rischio e pericolo quindi solo a livello didattico a mio avviso fin meccanica leggermente sotto quotata per cui ne ho preso un po' vediamo se riesce a salire le avevo a 5,90 la scorsa venerdì con l'apertura a ribasso a ridosso i 5,40 ne ho preso un altro po' un altro po' quindi a 5,50 con la media 5,75 avevo la media quindi ne ho preso un altro po' per fare un piano di accumulo a lungo periodo perché ritengo che leonardo leonardo fin meccanica debba arrivare fino a ridosso dei 8,50 e ho dato un livello addirittura a 9,20 9,30 per il fair value di leonardo che non è ancora partita bene anche se oggi sta facendo un bel più 4 per cento sono salata più 5 dopo mi sembra arrivata a 5,90 5,92 dopo non l'ho seguita comunque era arrivata ben 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 in alto ciao monica ciao a tutti quanti allora l'argomento di oggi come comportarsi durante la fase intraday per quanto riguarda i gain e per quanto riguarda anche le perdite solitamente per i gain vi spiego subito per i gain quindi la nota più felice magari per i gain quando siamo in guadagno solitamente siamo tutti euforici contenti felici e solitamente è importante partire subito dai primi scambi essere positivi perché se noi partiamo con magari con qualche operazione sbagliamo già subito qualche operazione subito di scalping quando appena apre la borsa è chiaro che dopo siamo un attimino in affanno e rischiamo di inseguire un attimino per cercare di volere passare positivi velocemente quindi inseguiamo il titolo e facciamo delle operazioni che non sono magari non aspettiamo i segnali quindi facciamo delle operazioni avendo in solo quello che è il recupero della perdita che abbiamo avuto subito in quel momento lì e quindi questa è una cosa sbagliata che non dobbiamo mai fare quindi quando siamo leggermente in perdita nelle prime operazioni cerchiamo di rimanere calmi perché altrimenti rischiamo di fare perdite su perdite quindi di sommare sempre più soldi in perdita per la nostra seduta però se noi partiamo bene abbiamo subito le prime operazioni sono abbastanza positive quindi chiaro che dobbiamo anche mantenere i nervi saldi per cercare di guadagnare sempre di più ma facciamo finta guadagniamo 20 30 50 100 200 euro non è che dobbiamo pensare che qualcuno lì siamo in guadagno di 200 euro e casomai rischiare un po di più dobbiamo rimanere calmi e tranquilli aspettare i segnali per cercare di incrementare i guadagni è la cosa abbastanza difficile perché vedo che tantissimi quando sono in guadagno rischiano di buttare via abbastanza velocemente i loro guadagni con qualche operazione azzardata quindi si aspetta i segnali specialmente l'ultimo quarto d'ora 20 minuti di contrattazione se noi l'ultimo quarto d'ora 20 minuti di contrattazione siamo in guadagno magari di 200 o magari non abbiamo preso tanti soldi verso migliori di 50 60 euro facciamo meno di fare operazioni che rischiamo solo di buttare via la giornata magari io mi ricordo tantissimi anni fa quando stavo incominciavo a guadagnare costantemente tutti i giorni arrivavo delle volte che erano le 5 un quarto 5 20 azzardavo qualcosina maria un guadagno di 700 euro di 1000 euro o di 500 euro e rischiavo dopo con due o tre operazioni di azzerare il guadagno il suo cavolo ho lavorato tutto il giorno dalle otto della mattina fino alle diciassette e trenta e per vedere il mio conto azzerato e sui miei guadagni sono proprio un imbecile di prima riga quindi queste cose non si devono fare quindi è bene che quando manca un quarto d'ora 20 minuti alla fine e non abbiamo magari guadagnato tanti soldi oppure siamo lì alla pari è meglio non rischiare non portare il nostro conto negativo chiudiamo la giornata così il giorno dopo avremo la possibilità magari con tante ore a disposizione di cercare di fare questa di guadagnare qualcosina per meglio limitarsi quindi non fare più operazioni l'ultimo quarto d'ora 20 minuti si stiamo guadagnando poco o se siamo alla pari se stiamo guadagnando magari 5 facciamo un esempio esempio parliamo di insomma un pochino abbastanza grandi quindi magari stiamo guadagnando 500 euro 600 euro è chiaro che anche in questo caso dobbiamo sì fare magari qualche operazione perché magari siamo in guadagno però dobbiamo dire ok io sono in guadagno di 500 euro se magari il titolo torna un mino giù il titolo che sto acquistando in quel momento lì oppure lo sto shortando è chiaro che devo darmi un limite alla mia perdita non devo aspettare di che sono in guadagno di 500 fregarmi tutti i 500 euro mi do uno stop monetario in questo caso anziché darmi uno stop grafico o a livello volumetrico mi do uno stop monetario quindi lo stop monetario che mi darò saranno di 50 60 70 euro massimo 100 euro quindi da chiudo la giornata 400 euro nel caso in cui faccia giusta l'operazione è chiaro che posso fare mai un'altra operazione dai 500 euro sono passato ai 600 650 dico ok metto in piedi in un'altra operazione non negli ultimi secondi perché magari faccio le operazioni anche vado in asta di chiusura mi prendo qualche rischio però mi prendo un rischio quando sto guadagnando abbastanza bene se sono lì lì che non guadagno tanto è chiaro che i rischi non prendo neanche io non vado a fare un'asta per mai riparare i 50 100 euro per capite benissimo c'è gente che va a lavorare tutto il giorno per 20 30 euro al giorno noi mettiamo mai in piedi un'operazione per perdere i 50 100 euro e sono comunque soldi per mai non si rende conto che 50 100 euro magari anche al giorno sono sempre comunque soldi quindi cerchiamo di mantenere i nostri guadagni intatti se vediamo che guadagniamo qualcosina a fine seduta non mettiamo a rischio repentaglio i nostri guadagni quindi questo è quello che io solitamente faccio quando sto facendo trading quindi non metto a repentaglio il guadagno che ho accumulato fino al 17 e 10 17 15 oppure fino alle 17 se magari ho guadagnato 50 euro o 100 euro cioè non è che dico a proposizione perché ho guadagnato poco voglio guadagnare di più non faccio operazioni oppure aspetto sempre dico che va bene faccio un'operazione per perdere qui 10 euro 15 euro per vedere se ne prendo magari 50 o 60 ma non metto a repentaglio il mio piccolo game o magari se sono alla pari per chiudere la seduta negativa quindi mantengo in essere quella i soldi che avevo guadagnato oppure quella parità che avevo raggiunto alle 17 17 30 avrò perso una giornata non ho guadagnato soldi ma alla fine non ne ho persi e non ho messo a rischio il mio capitale che mio capitale quello che ho lì sul conto quindi ho 20 mila euro sul conto non devo intaccare il mio capitale devo sempre aggiungere un piccolo gradino di piccoli soldi tutti i giorni guadagnare qualcosa in modo tale da far crescere il mio capitale perché altrimenti se noi non ragioniamo in questa maniera qui facciamo e vediamo il trading mondo del trading oppure questo lavoro come un gioco un gioco d'azzardo e non come un lavoro vero e proprio quindi mettiamo a rischio veramente il nostro capitale il nostro capitale deve rimanere intatto abbiamo 20 mila euro sul conto dobbiamo andare 20 mila un euro 20 mila due euro che fallo crescere giorno per giorno quindi vedrete che se noi lo facciamo crescere giorno per giorno alla fine riusciremo a fare questo lavoro in maniera costante e seria io penso di essere quello più regolare nel mondo del trading magari non sarò quello che ha lavorato di più ho guadagnato bene mi sono tolto tutte le soddisfazioni possibili però sono quello penso di essere quello che ha lavorato di più e quello più regolare di tutti perché sono molto prudente sul mercato quindi lo rispetto continuamente non mi prendo delle licenze così in ultimi minuti quindi cerco di rispettare il mercato e cerco di fare quelle operazioni che vedo in quel momento lì che potrebbero essere redditizie senza mettere a rischio i miei guadagni quindi questo per quanto riguarda i guadagni che guardate che quando stiamo guadagnando siamo più rilassati ma non dobbiamo mai abbassare la guardia è chiaro che è piacevole essere in guadagno piuttosto che essere in perdita che siamo un attimino sotto stress però se siamo in guadagno non dobbiamo essere rilassati dobbiamo essere sempre concentrati sempre lì perché altrimenti rischiamo come è successo la juventus avete visto che vinceva 2 a 0 in sei minuti si è preso 3 3 3 3 pere si è presa una settimana con il mila quindi non bisogna mai abbassare la guardia perché dopo abbassiamo la guardia ho fatto un esempio così calcistico abbassiamo la guardia rischiamo di prendere magari anche noi due tre pere su un attimo perché ci siamo rilassati quindi non bisogna mai rilassarci già sta lì concentrati fare le operazioni che vediamo che sono fanno un alto potenziale di rendimento rispetto allo stop come detto io io vedo il mercato ancora in salita perché vedo che se il mercato da 3225 e 3230 rimane sopra lì la sp500 va a riequilibrare le aree fino a 3318 3.340 3.350 quindi quei livelli lì dovrebbe andare fino a quel livello lì con questo però se il mercato viene giù sono pronto a cambiare cioè non è che ho una un'idea fissa e mi mantengo su questa e quindi cerco di cambiarla anche velocemente detto questo passiamo col discorso delle perdite ok quindi passiamo col discorso delle perdite dopo andiamo con le domande che avete da farmi quindi risponderò le tutte tutte le vostre domande nicole mento che ha fatto più 7 leonardo leonardo più 701 che anche farà l'esimento così e l'avevo detto anche venerdì venerdì durante il mio post che ho fatto che faccio lo stesso qualche la newsletter che mandiamo col video vi faccio le analisi sui mercati spero di farvele anche fine settimana se un attimo di tempo le faccio quindi vi farò vedere un attimino due tre cose anche questo fine settimana se c'è qualcosa di interessante per quanto riguarda le perdite è chiaro che quelle perdite e diventa un argomento leggermente più complicato perché ognuno di noi la smania la voglia di recuperare la perdita molto velocemente quindi non rispetta più le regole parte una scheggia in testa quindi vede questa cosa qui in maniera c'è un attimino di fretta mette fretta alle sue operazioni per cercare di recuperare la fretta vi ricordo non è mai un buon alleato per fare trading e anch'io delle volte sono lì davanti voglio recuperare velocemente e vedo che subisco altre perdite oppure faccio tante piccole operazioni e vado in stop continuamente ma riperdo poco però vado in stop continuamente perché un attimino una fretta di recuperare questi errori li faccio anch'io non è una cosa però allenandomi con il tempo ho capito paolo sta calmo aspetta un attimo che vedrai che le occasioni ritorneranno perché una volta capita che perdiamo subito i soldi primi due o tre operazioni e dopo per io che sono specialmente io sono scalper e faccio tante operazioni mi capita che voglio recuperare velocemente ma il mercato si è un attimino bloccato e ho dentro di me la smania di recuperare la perdita però vedo il mercato che è fermo e quindi dico madonna e cerco di forzare delle operazioni e questo non va bene quindi cerchiamo di non forzare le operazioni quando siamo in perdita perché alla fine se aspettiamo magari un'ora due ore tre ore dopo si presenta delle altre occasioni in modo tale da non da recuperare le perdite che abbiamo subito però anche qui sulle perdite dobbiamo darci una regolata nel senso che ognuno di noi questo non è il mio caso per fortuna non è il mio caso però ognuno di noi deve cercare di dire ok sto perdendo 100 euro il giorno dopo cioè devo fermarmi devo darmi un tetto massimo di perdita quando sto facendo trade io mi ricordo quando ero a barcellona che sono andato al casino a giocare a blackjack che io però guardavo qualcuno come giocava si va a giocare e mi sono in posto e ho detto va bene stasera vado lì mi gioco 200 euro se perdo 200 euro non gioco più e la sera dopo li ho persi 200 euro la sera dopo sono andato di nuovo ho detto a me per 200 euro ho perso 200 euro anche sera dopo la terza sera ho detto già perso 400 euro stasera vado lì bevo un drink e non gioco più per cui bisogna darsi dei limiti è chiaro che lì stiamo parlando di un gioco d'azzardo e tutto per quanto riguarda il blackjack però dobbiamo darci dei limiti quando stiamo facendo trading questo è il nostro lavoro per portare il trading per essere il nostro lavoro dobbiamo farlo in maniera scorpolosa adottare tutte le strategie possibili e immaginabili e la strategia una delle strategie quella di essere bravi a livello mentale di darsi una regolata dire ok per 200 euro non faccio più operazioni come ho detto le altre volte sulla gestione del capitale quanti soldi dobbiamo perdere ogni magari trade che facciamo se abbiamo pochi soldi è chiaro che dobbiamo magari perde magari un euro due euro ogni operazione che facciamo siamo mille euro sul conto è chiaro che però quell'euro qui due euro qui tre euro che perdiamo su mille euro del conto è chiaro che quelli lì ma ci fanno perdere riusciamo a capire ma dove abbiamo sbagliato e ci permettono dopo di fare delle operazioni giuste magari guadagnare 1 2 3 euro non conta la quantità perché sono partito a guadagnare i soldi guadagnando un euro 2 euro e 3 euro e 5 mila lire e 3 mila lire e 4 mila lire e 10 mila lire per dire e quindi che corrisponde 1 2 euro e 5 euro di di adesso è chiaro che io facendo queste operazioni mi hanno permesso di ragionare bene sul mercato di capire come cercare di fare questo lavoro meno disciplinato molto nelle mie operatività di tutti i giorni mi hanno trasmesso di fermarmi quando stavo perdendo dei soldi durante la sessione di trading e quindi questo mi ha mi ha formato tanto è stata una formazione importante ci ho messo mari un anno 6 7 mesi per imparare sono stato fortunato per anche un altro mercato quindi era più facile di imparare nel 99 e fare trading adesso leggermente più difficile se io dovessi imparare adesso fare trading come sono partito quella volta l'anno ma non ci sarei riuscito adesso senza amare qualcuno che mi insegnasse a fare questo come lavoro senza amare un mentore è chiaro che anche qui abbiamo parlato della scelta del mentore adesso mi sarei un salto mentore che mi fa vedere i conti mi fa vedere se lui guadagna se è uno che lavora oppure se fa solo i corsi guadagna attraverso i corsi quindi sarei stato veramente molto attento perché nel mondo del trading avete capito benissimo dalle dirette che vi ho fatto che ci sono tantissimi fuffa guru e io quando andavo in giro all'inizio nel 2001 pensavo che queste persone che che erano sul palco fossero brave dopo con il tempo mi sono accorto che quelli che erano sul palco che andava a sentire un attimo come lavoravano di tutti quelli che erano sul palco non c'era neanche uno che alla fine dopo guadagnava seriamente col trading ma guadagnavano solo anche quel tempo facendo i corsi quindi questa cosa si è ripetuta con il tempo quindi se io sto guadagnando dei soldi durante il giorno avete capito ritornando all'argomento di oggi cerco di e di non fare non intaccare il mio capitale ok di non intaccare il mio capitale se invece quindi cerco di intaccare il mio capitale e di tenermi una somma sufficiente sto guadagnando sto facendo tante operazioni giuste e chiaro dico non è che sono invincibile quel giorno lì è chiaro sto facendo operazioni giuste perché magari quella giornata lì la mia strategia e vanno a target continuamente è chiaro che devo mantenere il mio capitale di guadagno se invece io sto perdendo dei soldi non devo affrettarmi per recuperare le perdite che ho accumulato fino a quel momento lì e quindi mi devo dare anche una somma di perdita massima giornaliera per il mio trading è chiaro che dopo quando mi sono dato la somma massima di perdita per quella giornata facciamo fin da 100 euro è chiaro che non è che spengo il pc e e non faccio più niente rimango lì perché e c'è uno studio continuo sul trading perché io se spegnevo il pc dopo una o due perdite non sarei migliorato quindi c'è un è uno studio che devo capire perché ho sbagliato alle volte non c'è una spiegazione logica perché si perde è chiaro che abbiamo una probabilità a nostro favore che potrebbe essere nel 70 75 80 per cento probabilità a nostro favore io con la tecnica su scala stamattina alle 9 sulle sp 500 dopo le 9 se la tecnica su scala il mercato iniziato ad andare su e dopo è rotto ancora però l'esp 500 ha fatto 6 7 punti di rialzo 9 10 9 un quarto dopo alla fine però lì c'era proprio la tecnica tramite mari volumi l'order flow e quant'altro che mi permetteva di guadagnare mare 6 7 punti che l'ho fatta vedere un mille euro stamattina con la perdita del tic sulle sp 500 quindi avevamo 37 dollari 50 di perdita con la possibilità di guadagnare bene è chiaro che magari oggi questa tecnica ha funzionato so che una una percentuale molto alta ma che se anche per cavolo sto perdevo 37 dollari e 50 non perdevo tanto è chiaro che potevo mettere in piedi altre e altre operazioni per mai rifare un'altra un'altra operazione altre due tre operazioni avrei perso 100 120 dollari se mi andavano male tutte è chiaro che sì io dopo vedo che con la giornata lì il trend viene giù continuamente io faccio delle operazioni contro trend e becco continuamente stop sto un attimo attento perché il rischio è molto alto che perda veramente molti molti soldi quindi dovete cercare di disciplinarvi capire quando avete sbagliato di bloccare la vostra operatività certo su una certa somma però non chiudere il pc ma cercare di ragionare sugli errori che si sono fatti che più fa è che più importante capire dove abbiamo sbagliato un'operazione come dico tante volte che fanno operazioni giuste non sapere esattamente perché l'abbiamo fatta giusta adesso rispondo alle vostre domande quindi l'argomento avete capito l'argomento di oggi mi sembra di averlo espresso abbastanza bene se c'è qualche domanda adesso rispondo velocemente alle domande allora costantino mi dice ciao mi piace concetto di rispetto del mercato grazie costantino si e cioè rispetto al mercato vedrai che se tu lo rispetti il mercato è che alla fine il mercato ti premierà e ti premierà perché devi aspettarlo capire le sue dinamiche e un po alla volta vedrai che il mercato ti ti premerà leonardo però da incidere grazie mille leonardo giampaolo ciao ciao giampaolo ciao nicola paolo sale sp e sale anche dix è sì uno di due evidentemente sta barando evidentemente perché sale il vix perché sono parecchie riunioni poi c'è il discorso delle trimestrali americane ci saranno parecchie trimestrali americane tra poco quindi sarà un mercato che molto probabilmente potrebbe essere molto molto volate quindi attenzione al mercato nelle prossime sedute perché sono tutte le trimestrali saranno parecchie trimestrali mali brutte però mercato sembrerebbe che stesse già scontando questa cosa qui adesso vedremo un attimo cosa succederà però a mio avviso detto che il mercato dovrebbe tornare in quell'area lì dopo magari domani va a 2.900 punti però finché tiene avevo visto i 3.100 punti 3.105 la scorsa settimana ha fatto minimo perfetto sui 3.105 e qualche mille aveva addirittura facendo le opzioni è riuscito veramente a prendere delle belle delle belle soddisfazioni quindi è riuscito a registrare anche delle operazioni che aveva aperto e quindi vediamo un attimo cosa combinerà il mercato stefano mi dice paolo quando prendi uno stop su un titolo quante volte massimo rientri stefano allora ad esempio se prendo uno stop e vedo che magari viene giù magari facciamo finta io sono dentro su quattro cinque titoli contemporaneamente magari le volte mi intestardisco magari su un titolo faccio due o tre operazioni solitamente ne faccio due o tre vedo che non mi va bene dico aspetta un attimo evidentemente stanno ancora vendendo aspetta un attimo perché magari è venuto giù il titolo ha accelerato giù lo prendo ridossi minimi mi butta in fuori in stop una volta lo ritengo di nome riputa in fuori stop un'altra volta lo dico aspetta un attimo che cerco di non fare operazioni perché rischio di fermi male stamattina ad esempio avevo visto che il mercato stava leggermente salendo e stavo per comprare enel perché avevo visto una bella figura su enel però non mi sono fidato no non mi fido di enel perché mi sembra leggermente più debole del mercato e fatalità se la prendevo avere preso stop quindi per fortuna mi sono accorto velocemente altrimenti avere preso sto però solitamente due o tre volte due tre stop consecutivi su un titolo rimango fermo dico aspetta un attimo che qui mi stai fregando i soldi è meglio che rimango un attimino fermo per rischio di fare magari 20 30 operazioni questo qui il titolo dopo mi massacra quindi bisogna prestare molta molta attenzione e allora erico canepa mi dice guada guadagnano pochissimi i più perdono tanto e si deve fare a tempo pieno sì esatto erico è chiaro erico che fare a tempo pieno trading e di avere una certa e certe entrate perché altrimenti non conviene fare meglio avere ognuno al suo lavoro però quando uno al suo lavoro vede che sta guadagnando magari di più e ha un un equity line abbastanza costante che guadagna per parecchi mesi io direi che dopo un anno un anno e mezzo si vede che io io ho ceduto prendendomi un sacco di parole da mia mamma ho venduto la ditta di mia mamma nel 2003 perché vedevo che guardiamo cioè questo fare il lavoro di mia mamma mi portava via del tempo avevo altri pensieri dovevo stare lì dietro a tante persone che alla fine quello che guadagnavo con la dieta di mia mamma lo guadagnavo in quello che guadagnavo su un anno lo guadagnavo mai in una settimana con i treni cioè vai 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 in cina anche la la cosa la la ditta e dopo mi sono preso un sacco di parole mia mamma va beh comunque lei era in pensione aveva in pensione già da tanti anni quindi non potevo dirmi tante cose e ho detto se la vuoi indietro te tienila te sei a posto lei non la voleva indietro e mi sono preso un sacco di parole io allora invece c'è paolo una delle prossime dirette potresti dare dei consigli per il passaggio demo reale ok va bene però dei consigli per la demo reale lo dirò al mio amministratore di prendere nota qui devo parlare anche che simone mi ha chiesto per il pullback purtroppo come lavorare sul pullback e sul pullback purtroppo devo avere la lavagna quindi farò uno schizzo a casa quando vengo in ufficio farò uno schizzo sulla lavagna farò vedere il pullback come lavorare sul pullback questo l'argomento di oggi me l'ha segnalato uno un utente mi ha segnalato l'argomento di oggi quindi datemi degli argomenti o tratterò gli argomenti che volete chiaro che tratta argomenti che so altrimenti non non posso trattare argomenti che non so se mi parlate mari di bitcoin o altre cose che magari io non non tradono faccio non riesco a dargli delle nozioni buone insomma ecco quindi quindi parlerò di questo argomento per passaggio demo reale ve lo preparerò una delle prossime sedute grazie mille giampaolo della del commento si può fare trading con euro 1000 si marina e marica scusami e si può fare trading con mille euro naturalmente qui i micro anche qui micro future si può fare trading con mille euro ma la cosa importante sarebbe farlo magari qui micro cfd in modo tale che ai mari lavori sui centesimi non deve essere deprimente uno che guadagna magari 10 centesimi guadagnato 10 centesimi 15 è chiaro che io non ho iniziato a guadagnare subito tanti soldi ne guadagnavo veramente pochi dopo ho iniziato a incrementare i guadagni ho iniziato anche a innalzare la mia quantità di azioni che compravo all'inizio compravo facciamo finta 1000 euro compravo sul mercato 1000 euro 2000 euro non compravo di più da un po alla volta ho iniziato a innalzare le mie quantità e sono arrivato a fare anche 15 per cento di generali nell'intraday quindi capite benissimo che io lavoravo con 300 mila euro sul conto e andavo fuori leva quindi la leva 10 che avevo compravo compravo 3 milioni di euro colpo mi ricordo ancora comprava 400 mila snamer tegas a 4 e 30 e arrivavo a 60.000 generali e al colpo quindi veramente comprava pesante andavo con 300 mila 300 mila euro leva 10 arrivavo a 3 milioni di euro cliccavo ancora e il mio broker mi dice no guarda che ho consumato tutta la leva quindi o vendi qualcosa altrimenti mi dice così però capivo che non potevo più mettere ordine a mercato allora fabrizio mi dice quindi si può lavorare anche 1000 euro marica fabrizio mi dice arriverà uno storno oppure si continua a correre con le trimestre in arrivo e fabrizio guarda non so se arriverà uno storno o no è il discorso principale che il mercato fino a 3318 al momento dovrebbe arrivare fino a quel livello lì quel livello lì dovrà essere primo livello a un 3220 abbiamo detto che ha una piccola resistenza però se il mercato le prossime sedute si stabilizza sopra potrebbe arrivare a 3318 abbastanza sevolmente già da questo mese è chiaro bisogna stare all'occhio perché mercato così alto specialmente abbiamo visto tesla che sta correndo come sta correndo forte proprio quindi bisogna prestare molta molta attenzione ai titoli che hanno sovraperformato mercato io avete visto che mi sono posizionato su qualche titolo che non ha ancora sovraperformato sul mercato che sembra lì stai facendo un po di accumulazione se ne sono diversi titoli buoni che sono sotto stanno sottopperformando l'indice in maniera pesante tra cui ho dovuto precedentemente solo a livello didattico nelle mie dirette sono solo a livello didattico non incitivazione all'investimento io ho detto che a livello didattico si può controllare un attimino anche leonardo che oggi ha fatto più 7 però a mio avviso un titolo veramente sottocotato che il software value è da 8 850 quindi siamo a 6 euro sarà quasi 6 euro invece nexi e mi sembra forte però ti dico la verità ne è stefano su nexi starei un attimino attento perché per me nexi anche sia di potenziale alto mi sembra sovrastimata quel titolo lì veramente in maniera veramente forte quindi starei molto attento su nexi no per carità il titolo nexi va a 40 euro e leonardo va a 3 euro però mi sembra leggermente sovrastimato come titolo ciao paolo la settimana scorsa ho visto dei doppi minimi massimi su sp500 ma con broker cfd erano limpidissimi è possibile il broker far furbo? no di volte magari le vedi bene non è che il broker faccia furbo potrebbe allargarti un attimino gli spread quando vai dentro te magari sul mercato cfd come hai detto giustamente te però solitamente se stai un attimo attento conosci il broker ce ne sono parecchi di serie e quindi riesce a fare trading in maniera buona allora Nicola mi chiede Paolo nella stessa giornata ti capita di comprare un'azione e magari andare short su un'altra pur essendo male l'indice marcatamente positivo preferisci essere monodirezionale grazie sì Nicola mi capita che ho fatto vedere diverse volte che sono mari long su due o tre titoli short su due titoli addirittura nel prossimo libro che faccio vedere faccio vedere proprio che ho due tre operazioni long e due tre operazioni short ma l'ho fatto parecchie volte non guardo questa cosa qui deve essere long su un titolo short sull'altro devo essere continuamente sempre long no no faccio indifferentemente le due operazioni addirittura un giorno ero long su unicredit ero short su intesa perché mi aveva fatto una cosa e ho short su intesa perché era mari più 1,5 e unicredit terra più 0,20 quindi avevo fatto il contrario ma cioè volevo guadagnare su tutti e due non è che abbia fatto un'operazione perché dico mi metto corto su intesa e vado long su unicredit adesso non mi ricordo cosa ho detto all'inizio però faccio contemporaneamente due operazioni contrari anche su stessi sui settoriali uguali non c'è nessun problema magari quando c'era generali alleanza magari andavo long sui generali shortavo alleanza ma la shortavo perché graficamente avevo visto che aveva spinto più in alto dell'altra e vedevo generale un attimo mio fermo quindi compravo una e sortavo l'altra ma volevo guadagnare su tutte e due non è che volevo guadagnare su una guadagnare di più su una rispetto all'altra cercavo di guadagnare su entrambe allora se come cassettista sono in forte guadagno su un titolo diciamo più 40 per cento se voglio mettere uno stop loss per proteggere il prenotare storno a che percentuale consiglieresti di metterlo allora milena se sono in guadagno del 40 per cento solitamente io con le azioni è più semplice perché ma ne vendo un po e mantengo in essere l'altra quantità magari io solitamente vendo un 40 50 per cento di azioni addirittura a volte arrivo anche 70 per cento tengo un 30 per cento per prendere movimento oppure se sono in guadagno del 40 per cento è chiaro lo metto metto magari un più 37 per cento chiudono 700 o 1000 azioni più 37 quindi 3 per cento di storno dal 40 per cento metto uno stop del 70 per cento delle azioni e l'altro 30 per cento lo tengo per sapendo movimento oppure lo metto magari a più 30 per cento più 40 allora storno al 3 per cento quindi vado a più 37 liquido il 70 per cento delle azioni il 30 per cento delle azioni si arriva da 37 per cento magari di guadagno al 30 per cento liquido anche quella 30 per cento perché alle volte rischio di voler prendere movimento non prende movimento alla fine rischio di di andare alla pari bruciarmi tutto il guadagno più mi porta a casa 70 per cento di di guadagno su quel titolo 70 per cento il titolo lo porta a casa quindi mi porta a casa il 37 per cento di guadagno e rimanenza cerco di guadagnare di più oppure magari metto uno stop a protezione più 30 per cento la vediamo marco rossi mi dice ciao paolo ci sono giornate che non ti convincono fin dall'inizio e quindi decidi che non fai operazioni ci sono delle giornate strane che nel mercato non mi dà vedo che un pochino nervoso va su di 56 t che torna giù va su c'è dico qua non stanno non capiscono neanche gli istituzionali cosa vogliono fare e quindi dico se non ci capisco niente resto fermo quindi adesso finché non capisco niente resto fermo ci sono delle giornate non giornate giornate che non faccio trading impossibile quando sono in ferie qua non faccio trading però ci sono delle giornate che resto fermo magari quella mezz'ora 30 minuti o un'ora non la mezza oppure sul titolo specifico perché non capisco cosa sta facendo quel titolo quindi rimango fermo la situazione può cambiare quando apre la borsa americana si generalmente la giornata resta brutta può cambiare con l'apertura è chiaro dipende dai titoli stiamo facendo trading stiamo facendo trading su dei titoli che seguono la borsa americana è chiaro che molto probabilmente il mercato cambia un attimo pomeriggio sono i titoli che se sono più volati tra cui unicredit inteso sempre quattro cinque titoli unicredit intesa dopo abbiamo fiat chrysler abbiamo eni e nel sono i 4 5 titoli sembrano più oggi c'è stato atlantia scambiava di più atlantia però solitamente più 45 titoli li sono i titoli che scambiano di più e quindi vediamo veramente più contrattazione sono quelli che seguono mari il le fluttuazioni del mercato americano naturalmente mercato americano nostra borsa segue mercato americano quindi di conseguenza per le nostre azioni vengono trascinate giù dal male dalla borsa nostra quindi arriviamo leggermente con qualche se capite che con le azioni arriviamo qualche secondo in ritardo rispetto a come si muovono i future quindi abbiamo un punto di riferimento importante e abbiamo il tempo di ragionare di più rispetto a ragionare solo con future che il future si muove non altri altre cose da guardare il fice americano si muove così basta non è che abbia un altro derivato da guardare qualcos'altro per muoversi una frazione di ritardo si muove il fice americano si muove il nostro si muovono le azioni quindi c'è quel tempo tecnico a meno che non sia una notizia che venga giù velocemente abbiamo quel tempo tecnico di ragionare e di capire se possiamo fare delle operazioni ad esempio oggi si vedeva quando è venuto sul mercato che ha fatto i minimi a un certo punto erano le 10 e circa le 10 e mezza mi sembra a un certo punto abbiamo visto che il mercato stava salendo quindi si poteva tentare qualche operazione su qualche titolo che si muove secondo mercato e abbiamo quella frazione di secondo 2 di tempo che ci permette il mercato per comprare le azioni perché dopo solitamente dovrebbero rimbalzare abbastanza bene lo vediamo le altre domande allora paolo mi dice non so se lo hai già detto in passato potresti far vedere l'impostazione di grafici su monito per esempio basta un solo monito o più paolo ricorda mia con la domanda non l'ho fatto vedere mi sembra l'ho fatto vedere una volta però loro faccio faccio rivedere è una domanda giustissima la tua quindi ti faccio vedere un attimo come imposto io il monitor come metto i grafici cosa seguo cosa guardo scusatemi non faccio le operazioni come i titoli che tiro fuori nel mostro un po di titoli quindi faccio non li mostro tutti per altrimenti come dice emmerich durante le dirette mi brucia un po di titoli quindi vi faccio vedere qualcosina quindi ti faccio vedere la mia impostazione quando faccio trading allora mirko mi chiede ciao mirko con il demo faccio solo sp500 anche io oggi dalle alle 9 ero e c'erano delle belle figure dove entrare lo studio di volume a nostro favore l'ultima operazione allora l'ultima operazione fatta quando ha iniziato la diretta in sella a 3.222 chiudendo a 3.214 circa c'è qualche correlazione da sp e indice del dollaro oppure tra l'unione opera che petrolio solitamente guarda ti dico sì c'è un po di correlazione tra l'euro dollaro solitamente c'è il dollar index con la borsa però c'è non c'è non guardiamo le correlazioni perché le correlazioni ultimamente abbiamo visto l'ultimo anno e mezzo due sono saltate vediamo l'oro che va su la borsa che va su vediamo il petrolio che va su c'è va su tutto e quindi diventa anche un pochino complicato capire le correlazioni quindi meglio lasciarle perdere guardare soli grafici stamattina addirittura c'era proprio l'operazione che dico sempre durante primo corso spiego i cinque pattern ed osso dei minimi e sanno benissimo i ragazzi che fanno il tutor sanno benissimo che spiego qui cinque pattern ce n'è uno che lo faccio cento volte succedendo quindi quell'uno è stato fatto stamattina proprio sulle sp 500 e addirittura c'era anche oltre il pattern c'era anche casus clay paolo puoi consigliare un broker per fare short su azioni allora sort su azioni i broker sono quelli italiani insomma tra i broker italiani abbiamo i v bank ui bank 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 dopo cosa che abbiamo abbiamo diversi broker in diretta i broker che vanno per la maggiore sono quelli che hanno e ti danno la possibilità di fare short selling ecco questo non vuole dire aprite su quel conto specifico cercate di valutare voi dove volete aprire il conto io non posso dire apri il conto lì perché c'è pre normative mi fidu e non posso dirlo allora laura brienza mi chiede una domanda quando i contagi in italia aumentavano i mercati sono venuti giù come castello di sabbia in usa e brasilia i mercati incuranti continuano a salire mi spieghi questa collezione diversamente proporzionale è successo sono caduti tutti comunque i mercati con un momento lì laura non è sia andato giù solo il nostro c'è stato un collasso da parte di tutti i mercati e proprio a fine febbraio inizio marzo quindi stato proprio questo collasso dopo alla fine hanno scontato tutti sono rimasti tutti lì per aria e quindi non è che sia stato dopo a catena quindi hanno un po visto che molto probabilmente da questo covide si può uscire e abbiamo un attimo ci vuole ancora un pochino di tempo però alla fine le borse stanno registrando questi rialzi vedremo un attimo come si comporterà con le trimestri ciao paolo il secondo è più adatto a fare scalping ma vedo di ragazzi si trovano bene fare il primo corso francesco è chiaro che il secondo ti da più io faccio le operazioni guardandosi tutte le cose del primo corso certamente se le facessi solo col primo avrei un percentuale più bassa le faccio le faccio rispettando il protocollo che ho nel secondo corso del specialmente casus clay e quelle che ho sul per quanto riguarda le azioni quindi insegnano come fare un'analisi grafica corretta anche sulle azioni specialmente sul daily per cercare di prendere dei movimenti importanti sono qualche ragazza sta passando mostro un po il panorama qui di albarella siamo sempre qui albarella faccio un po di panorama mi sono un po staccato dalla casa quindi secondo se facciamo più operazioni scalping è chiaro scalping non vuol dire fare 200 operazioni ma io ne faccio tante sono posizionato su tanti titoli però fare un trading intraday fare qualche operazione mari 7 8 10 operazioni intraday si possono fare con potenziale di guadagno molto molto alto insomma nel secondo corso si vede male eccolo qua evidentemente avevo toccato male io la telecamera allora Paolo investi mai su titoli ai minimi cinque cinque anni si investo si su tutti i titoli non ho preclusione di qualche titolo è chiaro che deve darmi per tenere l'overnight deve darmi un po di di fondamentali altrimenti se non mi dai fondamentali decido una somma da investire quella deve essere la somma massima che devo perdere i soldi allora alberto mi ciao alberto mi dice Paolo del lusso che ne pensi ad esempio guarda tods non la sto seguendo in questo momento alberto quindi ti darei un'informazione è chiaro che devi aspettare un mese quando torno a casa casomai faccio analisi su tods però tods è un titolo che solitamente segue faccio un po di scalping durante il giorno è un titolo che ha un po di potenziale rialzo ce l'ha insomma quindi potrebbe salire abbastanza bene però al momento non so darti aspettate un attimo che vado a leggere l'altra Mirko lo dice tanti parlano del mercato ciclico cos'è ed è da tenere in considerazione per il nostro lavoro perché tanti sono da inseguire su internet in camicia eleganti non so come annullare pubblicità di tutti i social mi dicono anche meglio purtroppo Mirko si ce ne sono un sacco di questi qua io ti dirò non seguo l'analisi ciclica cioè non so il ciclo non seguo i cicli io dopo per carità uno guarda i quei cicli va bene però non seguo l'analisi ciclica quindi non so cosa dirti io guardo i volumi sono i volumi che spostano il prezzo e se ho detto il 7 di aprile che il mercato sarebbe arrivato a 3.300 punti qualcuno mi dava del pazzo abbiamo visto che è arrivato prima a fine maggio è arrivato a quei livelli lì insomma sì ho detto il 7 aprile che arrivava a fine maggio è arrivato su quei valori qualcuno mi diceva di no 300 400 punti di sp500 mi diceva che non era possibile alla fine dopo il mercato è arrivato su quei valori lì alberto vediamo un altro alberto scusatemi perché ho un po di riflessione qui all'ombra allora ciao paolo ti ringrazio vado verso la casa perché vedo male che ho riflesso e più mezzorbo che sono allora grazie per aver trattato l'argomento che ti ho proposto ho notato che l'esito delle operazioni che si seguono durante la giornata influiscono parecchio sullo stato emotivo di conseguenza sulle successive decisioni per questo è importante saperci gestire emotivamente per non cadere nelle mani nelle mille trappole mentali cui continuamente sottoposto in trader supando i guadagni o peggiorando le situazioni di perdita è sì esatto dobbiamo lavorare su tutte le nostre emozioni in modo tale da cercare di contenerle e dobbiamo lavorare tanto sul mercato non è una cosa che si riesce a risolvere dall'oggi al domani io quando facevo i tornei di tennis mi ricordo sempre quando iniziava la stagione che andavo a fare il torneo di tennis non ero al primo torneo era sempre un pochino emozionato era un po emozionato dopo man mano che la partita andava avanti il secondo turno mai non ero più emozionato però solitamente il primo torneo che facevo durante la stagione quando aprì la stagione estiva il primo torneo era sempre emozionato un po la volta sono riuscito a gestire le emozioni ma un processo lungo non è facile bisogna gestire le emozioni non lavorare tanto su noi stessi che più che la tecnica è il nostro nostro carattere dobbiamo lavorare un po su tutto a livello mentale programma mentale continuamente sul corso del volume profile lo spieghiamo bene sul mindset spieghiamo bene queste cose come cercare di lavorare su noi stessi e viene regalato il mindset viene regalato all'interno del video corso del volume profile cosa ne pensi di mediare a rialzo cioè quando un titolo continua se no non faccio mai questa cosa qui non medio a rialzo mi tengo la posizione che ho in essere anche perché abbasso la posizione ho già parlato anche della mediazione quindi non medio mai a rialzo e cerco di gestire la mia posizione che ho non faccio mediazione a rialzo ciao paolo in ottica molti dei settimanali magari come si può gestire il take profit o lo stop loss su un titolo allora giuseppe ho risposto un pochino bene alla risposta della ragazza che stava guadagnando prima che il 40 per cento quindi lo giusto in maniera lì cosa mai su un altro un altro tratteremo anche questo tema nelle prossime dirette paolo hai gli indici quale book è più facile da leggere non ci sono book facili da leggere c'è il book che devi imparare bene a leggerlo una volta che imparato bene a leggere il book alla fine di essi a i movimenti sono quelli riesce a capire un attimino tutti i book come come leggere il book ma la cosa difficile di cercare di capire bene un book si capisce bene come ma il book del sp500 che è leggermente meno veloce rispetto ad altri il book del dax è leggermente più complicato però il book del sp500 se riesce a capirlo alla fine dopo capire quasi tutti i book il book del dax è leggermente complicato perché abbiamo poca quantità tra denaro lettera e lì allora mi dice ciao paolo una curiosità tradando un titolo sottile ti è mai capitato di non riuscire ad uscire dal mercato perché non trovavi la controparte e si su titoli sottili si sto attento le size e tutto contro la controparte alle volte resto incastrato su qualche titolo sottile quindi devo prestare molta molta attenzione comunque lì a può capitare si grazie mille daniele paolo prenderai atlantia se si sente ancora atlantia deve deve devono esserci poche notizie quindi deve andare giù stabilizzarsi prezzo quando si stabilizza prezzo allora potrebbe essere interessante comprare tanti ma al momento non è un titolo che deve trovare se mi fa sul daily il cassius clay lo vado a comprare subito vediamo magari di 24 domanda giusto qualche però su atlantia aspetto che venga giù ancora quel minimo lì deve farmi un nuovo minimo e dopo sul nuovo minimo si mi fa un 3 di range mi fa un minimo poi ragiono sul nuovo minimo in una determinata maniera faccio delle operazioni per scaricare avere stop abbastanza stretti quindi chi mi conosce sa che cerco su questo eccesso magari uno dice perdere 3 di 10 13 14 15 per cento la compro perché recupererà un 10 tutti pensano così invece io aspetto che su cui valori lì si vada a stabilizzare il prezzo mi vada a rompere un minimo importante e vado a determinare che tipo minimo importante e da lì vado a vedere se mercato sta stabilizzando non me lo fa in volatilità oppure se me lo fa in volatilità come me lo fa e se stanno ma risorbendo una liquidità in vendita per scaricare nel stop qualcuno quindi lì allora apro la posizione e devo avere lo stop abbastanza stretto allora giancarlo mi dice grazie parlo ogni diretta dai pilloli di treni molto utili grazie mille a te giancarlo allora paolo mi dice continua a mancare il collegamento potrebbe essere un problema tuo mi sa paolo di connessione per mi sembra che nessuno abbia avuto questo problemi allora paolo esprimiti un po sulle valute cosa farà l'euro dollaro mi conosce non è che sia un mago io allora a mio avviso l'euro dollaro mi ha fatto vedere qualcosa di positivo quindi adesso non so oggi so che era sopra 1 e 13 13 20 non so cosa abbia fatto dopo l'ho visto stamattina dopo non l'ho più seguito al mercato ne sono i massi valori stamattina ho dato solo lsp e 500 oggi che era sopra 3.220 come ho visto precedentemente e attenzione perché va sopra i 3.220 livello le prossime prossime giornate saranno veramente toste a rialzo però 2.220 era il primo sbaramento doveva arrivare e per quanto riguarda euro dollaro a mio avviso dovrebbe arrivare fino a 1 14 14 50 1 15 quello dovrebbe essere il livello dell'euro dollaro poi vedo un po parecchia positività sull'euro dollaro adesso quindi penso che possa andare su sempre a livello didattico quindi ascoltatemi solo a livello didattico e vola i tenisti dei piccoli tenisti e di tenisti del fondo maria vittoria se la mia figlia piccolina stanno andando a tennis va bene abbiamo quasi finito abbiamo finito la diretta abbiamo fatto quasi un'ora 50 minuti dovevo fare un pochino meno allora vediamo se c'è qualche altra domanda e chiudiamo la diretta la cia paolo mai il libro in sita sarà informato cartaceo digitale si troverà in libreria o solo sul tuo sito e si troverà in libreria e viviterò informati le prossime settimane seguitemi sarà sarà veramente un libro non posso svelare di questo libro saranno svelati parecchi trucchi e sarà un libro dove dove per la prima volta verranno pubblicati dei risultati del trader che ha fatto il libro ok sembra sia pagnoca al libro il libro di pagnoca quindi saranno svelati i guadagni che ha fatto pagnoca quindi il libro dove si parlerà appunto di parecchie cose verrà svelato un patagrafico per la prima volta sul libro che solitamente lo svelo solo durante i corsi e quindi si parla un patagrafico e in più dopo tantissime altre cose e anche di webinar ci sarà anche un webinar mi sembra per chi prende questo libro paolo invece di tradare al meglio il gold quale strumento del secondo corso bisogna usare meglio book order flow invece per tradare al meglio il gold allora sia il book che l'order cioè possiamo inserire che il book nell'order flow possiamo inserirlo lateralmente possiamo inserirlo è un allenamento che si deve fare non è facile però bisogna sapere le cose da cercare sia sull'order flow che sul che sul book altrimenti rischiamo di guardare il book vediamo solo numeri non ci capiamo niente cerchiamo una cosa importante per chi magari vuole fare vuole fare trading è quella di registrare le sessioni registrate le sessioni andate a rivedere scusatemi cosa è capitato su determinati livelli quindi andiamo a vedere cosa è capitato su un determinato livello e registriamo vediamo un attimo se riusciamo a capire qualcosina è l'unica maniera quella di registrare al barella le anguille si sono buone ma a me non piacciono le anguille grazie mille a te giaccarlo buona serata anche a te grazie mille patti grazie mille grazie mille a tutti allora ci sentiamo la prossima settimana lunedì per la diretta e mi raccomando seguite giuseppe e paolo la diretta top borsa opzioni tutti mercoledì 17 30 hanno veramente i ragazzi sono contenti stanno veramente avendo dei buoni risultati con i seguiteli che danno delle informazioni gratuite e spettacolari un abbraccio a tutti buona serata ciao e ci vediamo la prossima settimana ciao tutti ciao